Nella gestione della Xilella serve una rivoluzione, ne è convinto il Ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigita, intervenuto al Forum in Masseria nella tenuta di Bruno Vespa a Manduria. In Puglia si è trasformata una situazione di emergenza in una stabilizzazione. Un'emergenza è un'emergenza, non te ne sei accorto, è successo e ripari il danno. Ma se dopo 14 anni che appare un fenomeno la continui a chiamare emergenza è irresponsabile come atteggiamento e quindi abbiamo inserito una prima tranche di 30 milioni. La Xilella per il Ministro è un problema consolidato per il quale è necessaria un'azione strategica convinto che insieme al mondo agricolo si debba ragionare su come rendere più forti le culture dell'olivo in Puglia. Oppure di riconvertire, o che ci fosse la volontà da parte degli imprenditori agricoli di farlo, in culture differenti dove la Xilella diventa un fenomeno non arginabile. La prima volta che si torna a fare un decreto agricoltura dedicato esclusivamente a questo tema che mette insieme la necessità di sostenere la filiera del grano. La filiera del grano va sostenuta però per l'incentivazione a maggiori produzioni di grano e a maggiore qualità del grano e gli interventi di 30 milioni che abbiamo previsto per questo, ulteriori 30 milioni rispetto ad altri stanziamenti già previsti, serviranno a questo modello. Il Governo quindi ha inserito una prima tranche di 30 milioni di euro perché si intervenga o con il sostegno a culture d'olivo resistenti alla Xilella o alla riconversione in altre attività agricole che devono seguire questo tipo di processo. Il decreto agricoltura mette 500 milioni ulteriori su questa voce In più inseriamo anche delle misure sul credito. Noi abbiamo una moratoria sul credito per le aziende che hanno avuto un calo di produzione del 30% quest'anno che hanno perso il 20% del valore dei loro prodotti lo scorso anno. Abbiamo misure per il contenimento dei tassi di interesse con un intervento di Ismea altri 20 milioni previsti su questo argomento.